C'è una bomba fuori! E finché ti darai pasto ai maiali, Antemo a quest'ora è già morto. Patrizio, ma dove cazzo stavi? Vieni subito. Mi fido solo di te. Carlo! Lasciala andare, pezzo di merda. C'era qualcuno che la veniva a trovare mentre era qui. Sì, è un signore anziano. Sta parlando per caso di quest'uomo. Fermo, banana, polizia! Lui è ancora vivo. Ho un microcipalcianuro piantato sotto pelle e tra meno di un'ora muoio. Che cazzo c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Io che c'entro con te? Avevo un figlio. Quella notte che Reitani ha provato ad ammazzarmi stava con me, ma non potevo scappare con lui. Ho dovuto lasciarlo. Sono io, tuo padre. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è?